Lea Massari visse in Spagna, Francia e Svizzera, dove iniziò a studiare architettura negli anni 50. Al contempo lavorava come mannequin e fu notata dallo scenografo e costumista Piero Gerardi. A 22 anni iniziò la carriera cinematografica interpretando ruoli di ragazza dolce e innamorata, proibito, 1954, di Mario Monicelli. I sogni nel cassetto, 1957, di Renato Castellani, e assumendo il suo nome d'arte in memoria del fidanzato Leo con cui avrebbe dovuto sposarsi, ma che morì pochi giorni prima delle nozze. Negli anni 60 l'attrice è presente in molte produzioni italiane e francesi in ruoli per lo più di donna borghese, ottenne notorietà internazionale con l'avventura. 1960, di Michelangelo Antonioni, nel quale interpretava una giovane donna sognatrice che scompariva nel nulla. Tra i film più significativi della sua carriera va ricordato anche Una vita difficile. 1961, di Dino Risi, in cui appare al fianco del protagonista Alberto Sordi. In Francia invece, dopo aver interpretato lo scabroso tema dell'incesto in soffio al cuore, 1971, di Louis Malle, nel 1973 ricevette una E.Tweil de Cristal come migliore attrice straniera e, dopo aver partecipato ad Allons & Fan, 1974, di Paolo e Vittorio Taviani, Nel 1975 fece parte della giuria al Festival di Cannes. Nel 1979 invece ricevette il nastro d'argento per il ruolo di Luisa Levi sorella del protagonista Carlo, Gian Maria Volontè. Da lei ricoperto in Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche in teatro. Due sull'Altalena, 1960, di William Gibson, è per la televisione. Anna Karenina, 1974. Quaderno proibito, 1980, da Alba de Cespedes, a partire da metà anni Ottanta ha diradato la sua attività artistica per dedicarsi a campagne ecologiste e animaliste. Ben nota è la sua passione per la chitarra e per la musica brasiliana.